Capolavoro questo, Zagor 716, benvenuti a Heavenwood, scritto dal mitico Tito Faraci. Alcuni pezzi che ricordano proprio il malessere del nostro paese, l'Italia. Mmh? Tipo. Tipo, tipo. Al diavolo, se la paga vi sembra troppo bassa, potete non accettarla. E in realtà non sembrava così bassa all'inizio, prima di scoprire che la metà viene trattenuta per l'affitto di una di quelle squallide baracche dove ci costringete a vivere ammassati, in condizioni disumane. Il resto dei soldi non bastano per i prezzi salatissimi dell'unico spaccio in cui ci è obbligato a rifornirci. Così ognuno di noi si ritrova sempre più pieno di debiti, impossibili da saldare, costretto a lavorare come uno schiavo, senza alcuna speranza di riscatto. Mmh? Oppure, quando dice... Lui è morto. Ma voi? Voi siete vivi? La vostra vi sembra forse vita? Non parlate, non reagite. Quando verranno a sceglierne un altro? Li lascerete fare senza muovere un dito. Siete morti, anche voi, morti che non sanno di esserlo. Sciocco io, che mi ostino a porre domande ai difunti. Ecco. Appunto.